Heliot Boots come funziona in aczione, una foto da rcspecial.com, molto bella! Questa, per la rcce, è la fronte Scoop Turbo Wing. Nuo clodine, per l'Infinity. J-Concepts presenta il Rian Mayfield Flywheel Ranch. Un nuovo rappresentante e manager per JQ Racing France, Felix Kergler. LRP X44 Brushless Motor, campeon europeo e sviluppato da Ongaro. Un brushless MBX8 Eco, da Mugen, costruito da Adam Drake. Un nuovo rappresentante. Un nuovo rappresentante. Un nuovo rappresentante. Un nuovo rappresentante.